Credo che la storia della mia vita prima da chirurgo e poi quella nel mio impegno politico, tutte le battaglie che avete visto per i diritti che mi hanno fatto prendere posizioni sempre molto chiare, a volte minoritarie nel mio partito, ma io andrò avanti con quelle posizioni nette e chiare e non mi vergogno di dire che sono posizioni di sinistra e ne sono orgoglioso. Allora io